Stefano, dopo quel popò di western metropolitano ci hai fatto un popò di western messicano. Allora, visto che tu sei già molto strutturato e hai lavorato in esperienze estremamente strutturate anche in Italia, mi dici la cosa che ti ha sorpreso di più di questa esperienza da regista, devi essere anche carnale se vuoi la risposta, cioè la cosa che tu, dopo tutto ciò che hai fatto è molto bene in Italia, sia per la televisione che per il cinema, questa cosa che ti ha, torniamo un po' anche bambini, insomma, noi chiamiamo il cinema di genere e quella roba là, una volta che ci sei arrivato la cosa che tu hai detto, non bene, questo non me l'aspettavo proprio. Ma la cosa che forse mi aspettavo di meno di tutta l'esperienza è di riuscire a fare esattamente il film che volevo e che mi sono immaginato leggendo la sceneggiatura, perché da cinico romano, ho detto, vedi, vabbè, certo, adesso mi chiamano per fare il film a Hollywood, perché? Perché riconoscono una specificità in quello che ho fatto, poi nel momento in cui arriverò là faranno di tutto per cancellarla. E questa cosa invece, che era semplicemente il mio stupido pregiudizio, non è avvenuta, è quella forse è la più grande soddisfazione. Ovviamente poi da ragazzino, perché tutti i registi sono un po' infantili, l'idea di giocare a quel livello, con quei giocattoli, devo dire, è stata un'esperienza di un certo livello. Un'esperienza da cui sei uscito alla grande e io mi sono emozionato moltissimo alla scena con il sordo-muto, l'ho trovata il momento più sollima, cioè l'ho sentito nostro, è stato un momento nostro totalmente, perché c'ho avuto questa sensazione secondo te? Non lo so, però quella ti assicuro che è la scena che abbiamo preparato di più del film, che detta così sembra una provocazione, ma non lo è, perché per permettere a Bruno Bashir, che è l'attore messicano che interpreta il contadino sordo-muto, di padroneggiare con quella fluidità il linguaggio dei segni e soprattutto di vocalizzare come un sordo-muto. È stato un lavoro che ci abbiamo messo due mesi, cioè quella è stata la prima cosa che abbiamo cominciato a fare in preparazione. Mi sono messo d'accordo con Bruno Bashir e lui ha studiato per un mese di fila con un insegnante, perché ovviamente doveva muoversi a una velocità di uno che ha solo parlato così nella sua vita, cosa che per esempio il personaggio di Benicio che interagisce, ci stava che fosse un po' più lento e maldestro, perché ovvio che è un linguaggio che ha acquisito dopo col tempo, quindi quella paradossalmente, in mezzo a tutto quel delirio del film, è stata forse la scena che abbiamo preparato con più largo anticipo. Beh, se capisce perché è perfetta e anche gli sguardi di Bruno sono magnifici. Finale. Solli, ma dimmi, secondo te, perché è un dibattito di adesso, che cos'è ancora il cinema rispetto alla televisione? Tu che stai facendo ad altissimo livello tutte e due le cose. Mi puoi dire, Stefano, se c'è ancora una differenza? Noi che siamo vecchi e siamo cresciuti con quella roba là. Da un punto di vista, diciamo, dell'approccio, cioè io parlo da regista, ovviamente la differenza non c'è. Secondo me c'è una differenza nella furizione. Cioè oggi, e io ho fatto moltissima televisione, e l'amo, però dovendo scegliere io come godere di un racconto cinematografico, io preferisco la sala. Solli Madixit, grazie mille Stefano. Grazie. E complimenti ancora. Grazie. Grazie. Grazie.